I giornali britannici sono in fermento con una notizia esplosiva che collega la Juventus a un grande evento. Manteniti aggiornato sui dettagli, ma prima, iscriviti e lascia un like a questo video. Nella Premier League, il Newcastle potrebbe acquistare il portiere dell'Arsenal, Aaron Ramsdale. Con questa situazione, l'Arsenal sta cercando un sostituto per Aaron Ramsdale e l'idea principale e riportare a casa un vecchio conoscente del club. Sì, hai capito bene, l'Arsenal sta pensando di riportare Wolchek Szczesny. Szczesny ha giocato nell'Arsenal tra alti e bassi dal 2006 al 2017 e ora potrebbe nuovamente indossare la maglia dei Gunners. La Juventus cerca di vendere uno dei suoi portieri questa estate, mentre Michele Di Gregorio dovrebbe arrivare a Torino. Abbiamo raggiunto la fine del video, ma non dimenticate di commentare, pensi che sia giunto il momento per Szczesny di lasciare la Juventus?